Il teatro Argo per me è Piazza San Cosimato, è Trastevere, è all'inizio di un sogno, è i vent'anni, Maurizio Panici, è il suo cane, è Troilo e Cressida, Troilo e Cressida, Troilo soprattutto, è Cressida, è Edoardo Leo, Rolando Ravello, Fabio Ferri, tanti amici, una tournée bellissima fatta tutti insieme, tipo in cita, e poi ancora Piazza San Cosimato, i giochi che stanno lì in piazza, tutti e due i miei figli, il pomeriggio che ho passato là, la gente che vedevo entrare, i ragazzi giovani, quando non ero più giovane io, che entravano da quella porta, spettacoli sperimentali, ricerca, supermercato accanto, il cinema america poco più giù, viene tale del grande, beh è una figata.